Io sono una fervente proprio sostenitrice della Lega per il Latte, la Lece League, che è un'organizzazione internazionale che collabora ovviamente anche con l'UNICEF. E appunto l'allattamento è estremamente importante per la donna e per il bambino, intanto perché prolunga questa simbiosi, questa fusione, questo legame affettivo è estremamente importante tra la mamma e il bambino. E poi anche perché oltre appunto a dare gli anticorpi attraverso il latte materno al neonato, la mamma si protegge comunque in qualche modo anche da dei tumori possibili al seno. Questo non esclude assolutamente l'importanza della prevenzione e quindi delle mammografie che vanno fatte. Io personalmente la faccio una volta all'anno.